Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Visto la partita, magliettina nerazzurra, ho visto i fessi perché non puoi prendere un gol così da deficiente e la cosa bella è che un attimo prima avevamo perso un altro palloncino a centrocampo sempre con Illo e ho detto non possiamo perdere sti palloni velenosi perché adesso stiamo giocando col Verona ma con altre squadre ci castigano, ho fatto finire il tempo di finire la frase Andanovic per Brozovic, Brozovic che dorme e tanto fa e tanto la prendo facilmente, me l'ha messa, è andato pigro come direbbe qualcuno e gliel'ha portata via e il buon Ili ci ha ringraziato e ha fatto puff pallonetto ad Andanovic e la colpa è di tutti e due, di Andanovic che non deve dare queste palle così, deve dare delle palle sicure ai suoi compagni con l'avversario a distanza eccetera perché poi prendiamo i gol da fessi e finché il Verona poi magari la ribalti come è successo ma se sono squadre come il Real Madrid, non dico lo Shattar, non dico lo Sheriff, ma il Real Madrid è simile e le stesse vale per le italiane, poi lo paghi, poi lo paghi, infatti poi perché il primo tempo era iniziato bene, Nautaro paratona di Montipò che non sa neanche lui come l'ha fatta, un po' con la mano, un po' con la gamba eccetera, gli ha messo in calcio d'angolo, gli stavamo chiudendo nella loro metà campo eccetera, abbiamo preso il gol da fessi e poi si sono, non hanno più creato granché eccetera, un po' perché comunque il Verona ha fatto una partita gagliarda come si suol dire, pressavano, correvano, stavano chiusi eccetera eccetera eccetera, quindi il primo tempo che termina sull'1-0, un po' di preoccupazione c'era, però pronti via pareggiamo subito, io quando ho visto quel fallo laterale lì ho detto adesso fanno la baccata in stile Arsenal col Brentford, palla in mezzo, spizzatona, penso di Perisic perché era lì, non si è capito se l'ha spizzata Perisic o il difensore e Nautaro che fa il cucù e Montipò che non la prende più, poi stessa occasione, giratona dà paura di Lautaro se segna, non l'ha neanche vista, è uscita di tanto così, ha fatto una girata da puntero vero in anticipo su tutti, pam, bella secca rasoterra, è uscita di tanto così, lì è sempre la solita sfiga che c'ha lui perché non gli puoi dire niente, è andato in anticipo, l'ha colpita benissimo eccetera eccetera eccetera, gli è uscita di tanto così, col portiere che manco, manco si è accorto, era come un pichindolor, non me ne sono manco accorto, poi è entrato Correa e quello vi dicevo abbiamo bisogno di una punta che si alta, questo è un metro e 88 e si è visto e può fare la prima punta e adesso si diverte in zaghi adesso, si diverte perché ha tre giocatori da fare girare, puoi giocare con Correa Zecco, puoi giocare con Correa Lautaro, puoi giocare con Lautaro Zecco e sa che c'è un Correa sempre pronto a entrare, c'è uno Zecco sempre pronto a entrare, un Lautaro sempre pronto a entrare, li può fare girare come vuole, come vuole, in più Lautaro e Correa sono così e mi sa che con Zecco possono trovare una bella, una bella triade, bella proprio bella, di amicizia eccetera in cui oggi giochiamo io e lui, domani e tu entri dopo, oggi giochiamo io e te e lui entra dopo, oggi giocate voi due e io entro dopo eccetera eccetera eccetera. La mia preoccupazione è che adesso tutti e due mi vanno in nazionale, Zecco mi va in nazionale, preghiamo che tornino sani e soprattutto che tornino anche perché mi tornano venerdì ad andar bene se non sabato e si gioca domenica con la Sampdoria e mercoledì ci abbiamo il Real Madrid in casa e sono subito uccelli per diabetici, amen. E sì è perché ragazzi miei, Correa parte, Lautaro parte, l'ultima partita ce l'hanno nella notte tra giovedì e venerdì, quando minchia tornano che alla domenica devono giocare, quindi se ti va bene e ti tornano sabato non puoi mandarli in campo con la Sampdoria, li puoi portare al massimo in panchina, quindi dovrei giocare con la Sampdoria, ancora con Sensi, Cialanoglu, Barella, Brozovic e Zecco unica punta, sempre che anche Zecco non mi torni a Shakaus, visto che teoricamente anche lui va in nazionale con la Bosnia, temo, temo, non credo abbia detto non gioco più con la nazionale, quindi vedremo, vedremo, abbiamo un tour de force dopo il rientro delle nazionali mica da ridere anche perché c'è la partita, se avessimo giocato in trasferta con Real Madrid era molto meglio perché dici in trasferta puoi anche perdere, chi se ne frega, quello lo metti già in preventivo che a Madrid puoi perdere, ma la partita casalinga con Real Madrid tu la devi vincere, se vuoi avere qualche chance di vincere il girone tu devi vincere, perché se parti subito che perdi con Real Madrid ti devi giocare poi il secondo posto con le altre due, sperando che Real Madrid non faccia come l'anno scorso che regala sei punti allo Shattar così in amicizia, perdendosi sia in casa che in trasferta. Comunque ragazzoli, gran bella partita perché poi, ripeto, dopo il pareggio abbiamo iniziato ad attaccare, ad attaccare, Montipò ha iniziato a fare delle belle parate, una su un tiro di bastoni bella, 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 perché proprio ha voluto fare la percussione all'ampassinato poi col tiro bello secco rasoterra verso l'angolina e Montipò col manone gliel'ha messo in calcio d'angolo. Poi invece è stato il gol annullato lì giustamente perché Lautaro gli va addosso e quindi ci sta tutto il fallo, anche se ha fatto una cosa all'Andanovis col Verona l'anno scorso uguale, però comunque il fallo c'era, ci mancherebbe. E poi è entrato lui, l'uomo della provvidenza, ma bisogna dire che un plauso a darmi anche su quel lancio di Vidal si è lanciato, l'ha tenuta in campo io ho detto non la prende, non la prende, l'ha presa, poi dopo uno scatto del genere riesce ancora a fare un cross dal doppio all'Ibidine coi fiocchi sul quale questo che è un metro e 88 come dicevo, perché non è un nano, è un metro e 88 quindi può fare anche il vicezzecco tranquillamente, di testa alla Marcatelli, ahimè brutti ricordi, però se andate a vedere è molto simile, salta in cielo dandogli tanto così al difensore e la piazza all'incrocio dei pali con Montipò che vola, 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 vola la Pemaia ma non la prende. E poi è arrivato anche il terzo gol e lì diciamo che gli hanno lasciato un po' troppo spazio ai difensori del Verona con la squadra un attimino troppo sbilanciata, lui l'ha contrattata bene al limite dell'area, ha fatto quel passettino calcio di sinistro e non la prendi più perché era un missilone all'angolino stavolta, gli fai ma ciao, ma ciao Montipò, ma ciao, ma ciao, ma ciao, ma ciao Montipò. E quindi 3 a 1 Inter, ripeto, partita scorbutica ma l'avevo detto, attenzione non pensiamo di andare a Verona a fare le passeggiate, però se ripeto il primo buongiorno è andato molto bene, il secondo buongiorno è andato molto bene perché era una prova dopo che prendi un gol da Pirla, poi magari va in bambola, succede, infatti il primo tempo siamo andati abbastanza in bambola, non che loro abbiano fatto chissà che cosa, perché dopo a parte quel gollino da Pirla che gli abbiamo lasciato fare, parate di Andanovic non ne ho viste, proprio potevo stare in porta anch'io, per il resto è arrivato il pareggio come era giusto che sia, poi sono arrivati gli altri due gol del buon Correa che ripeto, adesso Inzaghi sa che ha tre attaccanti e li può far girare, ha Sanchez che è un jolly che può utilizzare come vuole, e poi c'è il buon Satriano che il suo spazio probabilmente lo troverà anche lui perché non è scarso e ahimè, ripeto, Sanchez ci ha progli trent'anni e qualche accianchino ce l'ha sempre, Zecco ricordiamoci ha trentasei anni quindi ha bisogno di rifiatare ogni tanto, hai Lautaro e Correa che sono due certezze, ripeto, io continuo a sentire che il Caglia, arrivò alle Satriano, attenzione scambio di prestiti e poi vediamo l'anno prossimo e attenzione che Real Madrid si arriva in Bappé, c'è uno Jovic di troppo e ce lo darebbe omaggio con opzione di acquisto a 20 milioni, un diritto di riscatto a 20 milioni, a quel punto puoi mandare Satriano a Cagliari, a Jovic e a questo punto ai cinque attaccanti, uno più forte dell'altro e sei a posto. Non lo so, magari sono tutte bufa le chiacchiere eccetera, però ripeto, quando i manager dicono il mercato è finito vuol dire che non è finito, stiamo attenti che il buon Beppe non tiri fuori la colombella dal cilindro. Comunque andiamo al Botame, a Danovi cinque e mezzo e sono buono, anche se ce l'ho al fantacalcio. Scrinia devrà i bastoni tre muri, tre muri perché veramente, a parte la cagata che non è colpa loro per il resto, c'era il muro, il muro come nel gioco, no? Quindi sei e mezzo a tutti e tre. Bravo, Jovic mi spiace, cinque e mezzo, Barella sei, Cialanoglu sei. Oggi i centrocampisti non mi hanno esaltato per nulla. Darmian e Perisic, sei più a Perisic, sei al sette a Darmian per Cross Libidine, ha fatto una gran bella partita anche Perisic, però Darmian ha fatto un attimino meglio, quindi voglio premiare di più Darmian che non Perisic, però partita ampiamente sufficiente anche per Perisic. Zecco bene, sei e mezzo, Lautaro bene, sei e mezzo. Veniamo ai giocatori che sono entrati, Di Marco sei più come Perisic, Vidal anche oggi ben tanta cazzimma eccetera, poi il lancillo Libidine per... Era leggermente lungo però Darmian ci è arrivato lo stesso e poi ha regalato un assist al bacio. Quindi sei più anche a Vidal, Correa sette, cosa gli devi dare dopo l'entrato due palle, due gol e Vessino sei. Direi che ci siamo. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate, se sono stato troppo basso, troppo alto eccetera. Ripeto, non voglio infierire su Andanovic però Ciccio ti devi svegliare perché certe cose non le posso tollerare. Perché ripeto, finché giochi con la medio piccola puoi anche prendere il gol da fesso nei primi minuti, la puoi ribaltare. Se giochi con quella grossa, proprio grossa inteso, le big della Serie A e soprattutto in Europa, un Real Madrid, un errore del genere poi non so se riesci a recuperarlo. Non puoi regalare un gol agli avversari in questa maniera. Se fanno il loro gol per loro merito, bravi loro, ma se loro regali te mi girano i testi. Detto questo ragazzoli, siamo a sei punti, è presto. Come dicevo prima, buona la seconda ma ne mancano altre 36, avanti così. La prossima, ripeto, sarà dura perché ti rientrano, bisogna vedere come ti rientrano i nazionali, come stanno, come non stanno. A Genova con la Sampdoria l'anno scorso ci abbiamo lasciato le penne, quindi la prendo sempre con beneficio di inventario, però adesso mancano paio di settimane abbondanti, quindi ne parlerà anzi due settimane, due settimane, quindi avremo tempo e modo di parlarne nei prossimi giorni, anche se nei prossimi giorni penseremo alla nazionale, ai campioni d'Europa, che me li voglio e me li godo, e sì che me li godo, me li godo, e sì che me li godo, me li godo, sì che me li godo, perché io non faccio come quelli, oddio, ci fermo il campionato, cosa faccio? Ti vedi la nazionale, anzi ti vedi le nazionali, visto che ci saranno una marea di partite, ci divertiamo, ci fomentiamo, vediamo magari qualche giocatorino che potrebbe andare bene per gennaio da prendere per migliorare la squadra, eccetera, 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 e poi si riparte col campionato un altro mese, riparte la Champions, quindi avremo anche due turni di Champions in settembre, di Bidine, più o meno, e poi si riferma un attimino una settimanella al campionato, eccetera, e poi si va avanti fino a Natale ininterrottamente, e poi ci si fermerà a Natale, e facciamo le cose con calma, non ci corre dietro nessuno ragazzi, la vita godiamocela day by day, senza stare subito, non vedo l'ora che ricominci il campionato, intanto poi ci sono altre otto partite tra sabato e domenica da gustare, e vedremo cosa succede. Detto questo, scusate, mi sono dilungato troppo, come sempre, e ci vediamo alla prossima. Ciao!